6.45, autostrada A4, un furgone sta viaggiando in direzione di Padova, Venezia. Superato il casello di Grisignano, entra nel territorio di Villa Franca Padovana. La tragedia è in pochi minuti. Il veicolo tampona un'auto articolato, carico di carta e cartone. Un impatto tremendo che causa l'esplosione di una delle bombole di gas presenti nel furgoncino. Le fiamme si sviluppano in pochi istanti e avvolgono il veicolo, non lasciando scampo agli occupanti. Un botto tremendo che sveglia all'alba gli abitanti della zona. La colonna di fumo è ben visibile anche dalla zona ovest della città. In A4 si consuma una vera e propria tragedia. Muoiono carbonizzati il conducente e la persona che è al suo fianco nel furgoncino. I soccorsi giungono tempestivi. Cinque automezzi dei vigili del fuoco partono da Padova e Vicenza. Ci sono 16 pompieri a bordo. Le ambulanze del suo e mi arrivano a sirene spiegate. Spente le fiamme, i vigili del fuoco recuperano i poveri resti degli occupanti del furgone. Un terribile bilancio che potrebbe salire nelle prossime ore. Non è ancora chiaro, infatti, se all'interno del veicolo ci fossero solo due persone. Il leso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante soccorso dei sanitari. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Padova che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Chiuso per tutta la mattinata il tratto tra Vicenza e Padova Ovest con una corsia rieperta solo poco dopo le 10.30. Traffico in tilta anche sulle statali.